Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 La musica è la vita! This is the voice of your night. Radio Radio By Night Roma. Centro, quattro e cinque FM. Let's begin, let's begin, let's begin. Non abbiamo tempo. Però uno non può dire due parole o... Ascoltatori intanto gli dobbiamo dire che siamo in diretta fino alle tre e sta arrivando la prossima esibizione. Loro è un gruppo, diciamo, da una vocalità molto importante. Sono già stati ospiti di By Night Roma. Sono i Giampaolo Virga Band, anche detti GVB, li abbiamo così ristretti, li abbiamo capito. Numero 15 per i nostri giudati da giudicare. Loro si stanno preparando. C'è ancora qualche minuto. Possiamo chiedere magari qualche impressione dei nostri giudati sulle esibizioni fatte fino adesso, per esempio. Sì, allora... Abbiamo il nostro Valerio Russo. Andiamo di qua, perché per partizio, diciamo, un po' di qua, un po' di là. Allora... Ricordiamo le scuole, la più M... La più M... Positive Music School. Un nome un po' più facile, è articolato. Però è più Positive Music School. Esatto, esatto. Più M... Intanto c'è Roma Spazio Musica. Allora, Roma Spazio Musica, cosa dite fino adesso di questa serata? Abbiamo visto che talento ce n'è tanto, quello che mi sento di dire un po' a tutti è che spesso il talento va coltivato. Quindi diciamo che se dentro avete un piccolo seme, questo talento, bisogna innaffiarlo, studiare, impegnarsi. Non vi accontentate di quello che avete, ma continuate a cercare, a cercare, a cercare e puntate sempre in alto, insomma. Più in alto e più puntate, più migliorerete, insomma. Quindi continuate a studiare. Dalla prima, quella fuori dalla diretta, questa in diretta, stanno dando di più? Sentite un po' più... Beh sì, prima, diciamo, li abbiamo visti un pochino più emozionati, alcune persone. Adesso li ho visti già un pochino più a loro agio, insomma. Siamo qua da 4-5 ore, quindi hanno avuto tempo di prendere un pochino le misure. Di ambientarsi. Sì, col palco, con noi, esatto. È più difficile giudicare in questo momento, quindi, visto che sono più sicuri, magari. Adesso abbiamo due metri di valutazione. Abbiamo avuto già modo di conoscerli un po' prima, adesso vediamo la stessa esibizione, quindi possiamo un attimo avere due... Due parametri. Due parametri, esatto. Andiamo dall'altra parte per sentire anche un pensiero... Sì, allora, andiamo qui dal maestro, che ormai piace chiamarlo così. Allora, strumentalmente, quindi, dalla parte proprio tecnica, voci a parte... C'è qualcuno che è impressionato particolarmente? Beh, sì. Ci sono i ragazzi che hanno suonato prima, il gruppo, diciamo, un po' british. Favano carini gli incastri di batteria, cioè funzionavano. Bravo. Se vi posso consigliare qualcosa, studiate i pezzi lenti, molto lentamente, perché più si studia lenti, più si va veloce. Bene. Perfetto, perfetto. Questa è la loro opinione. Adesso By Night Roma in diretta sta dando spazio alla prossima esibizione. Valerio Russo, siamo arrivati alle... Siamo arrivati alle 2.12. Ma c'è una differita, un eco? No. Le 2.12 minuti in diretta, Radio Radio By Night Roma. Paolo Roberto Di Carlo, prossimo talento. Prossimi talenti che si sibilano qui sul palco del Piper Club sono i Gianpaolo Virga Band, numero 15 per i nostri giurati. Il pezzo che proporranno questa sera è anche qui, è un inedito, si chiama Il pezzo Sulle Tue Mani, li presentiamo come talenti di By Night Roma, ricordiamo Gianpaolo Virga Band, Sulle Tue Mani. Radio Radio By Night Roma, presenta i nuovi talenti della notte romana. Radio Radio By Night Roma, presenta i nuovi talenti della notte romana. Radio By Night Roma, presenta i nuovi talenti della notte romana. Radio By Night Roma, presenta i nuovi talenti della notte romana. Viva lei, viva lei Sandra Decurtis Management, grazie a tutti Virga Band Ah, sono proprio incontenibili Abbiamo lasciato spazio Sandra Decurtis, la ringraziamo anche Giustamente perché è stata lei a farci riconoscere Andiamo avanti Paolo Roberto perché abbiamo poco tempo